E' accusato di aver accoltellato nel 2013 l'ex fidanzata all'interno del cimitero di Ribera. Parliamo del riberese Gianfranco Termine di 26 anni. La giovane venne trovata dal custode in una pozza di sangue. Termine era stato condannato a 7 anni e 5 mesi per tentato omicidio e dopo un anno di carcere era stato trasferito agli arresti domiciliari. Dopo la sentenza di primo grado il giovane era stato rimesso in libertà dal giudice Luisa Intini ma il PM Alessandro Moffa aveva fatto ricorso al riesame che aveva annullato la decisione della Intini e dunque riportato Termine ai domiciliari. Tutto questo in attesa del processo di appello, processo che ha preso inizio. Il prossimo 21 dicembre il Tribunale dovrebbe affidare l'incarico ad un pool di psichiatri per valutare se Termine, al momento dei fatti, era capace di intendere di volere.